Lavori infiniti, ennesima domenica da incubo, ancora un fine settimana da dimenticare su Bifernina e Trignina, i semafori per i cantieri hanno mandato in filti il traffico dalle città verso il mare, la protesta degli automobilisti. Gradimento dei sindaci gravine in fondo, il primo cittadino di Campobasso scivola all'ottantesima posizione della classifica del sole 24 ore, in calo anche Castrataro a Isernia che però è al 48esimo posto. Stellantis stamattina sciopero a Termoli, protesta dei sindacati e lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento, chiesti al governo l'apertura di un tavolo di confronto e maggiori garanzie sul rilancio industriale. Don Patriciello nel carcere di Isernia, il parroquantica morra stamattina nel penitenziario molisano, il Vangelo deve arrivare anche alle persone che hanno sbagliato, ha detto il sacerdote e sulla sanità purtroppo esiste ancora un mondo di serie A e uno di serie B. Campobasso ufficiale è l'arrivo di Ricamato, il 33enne Benafrano firma con la società Rosso Blu, andrà a rinforzare il pacchetto di centrocampisti a disposizione di Vister Mosconi, Marco Nicodemo probabile nuovo preparatore dei portieri. Buon pomeriggio dalla redazione di Telemolise, dunque la domenica appena trascorsa è stata l'ennesima domenica da dimenticare per chi dalle città della regione ha deciso di mettersi in viaggio per trascorrere la giornata al mare. Una giornata di code su Bifernina e Trignina, ancora una volta per i semafori che sono installati su quelle strade a causa dei lavori in corso, si sono formate code lunghe chilometri con i tempi di percorrenza che si sono allungati a dismisura, la rabbia degli automobilisti. La cronaca di questa giornata nel servizio di Andrea Nasillo. Ancora una domenica di disagi sulle due principali arterie che attraversano il Molise, Bifernina e Trignina, al mattino ma anche al rientro dal mare verso l'interno della nostra regione. C'è chi da Isernia ci ha impiegato anche due ore per arrivare a San Salvo, code lunghissime anche da Campobasso a Termoli, ancora semafori che rallentano e fanno infuriare gli automobilisti. Nei giorni festivi per alleviare i disagi il traffico viene regolato addirittura da alcuni operai. No, se iniziano più il lavoro. Sì, il lavoro, sì. L'anno scorso siamo stati in Termoli e lo stesso, non avanza l'obra. La sera, gli orari di punto, c'è sempre traffico. L'altra volta un'oretta e mezza, due ore più o meno, sì. La sera quando ritorni al Campobasso diventa un incubo. Non si può fare. Cioè, ho capito che in Molise però. A un fine a un certo punto. Durante la stagione estiva gli spostamenti si intensificano, ma per chi vuole godersi una giornata di mare, tutto inizia con stress e nervosismo. Nella zona della diga del Liscione, in tre chilometri, ci sono due semafori e c'è chi ha impiegato 20 minuti per percorrerli. Situazione divenuta insostenibile. La cronaca si sono svolti ieri pomeriggio a Baranello. I funerali di Antonio e Antonia Gualtieri. I due anziani morti nell'incidente avvenuto sabato mattina, quando il loro trattore si è ribaltato nelle campagne del paese. La magistratura non ha disposto l'autopsia. Sul corpo delle due vittime è stata eseguita solo un'ispezione cadaverica. Intanto vanno avanti gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente, il terreno impervio, l'erba bagnata o una errata manovra del conducente. Siamo alla politica, mentre il neopresidente della Regione, Roberti, ha lavoro per comporre la Giunta. Proseguono le reazioni dopo il voto delle regionali. Ancora polemica nel centro-sinistra. Rompe il silenzio Andrea Greco, che punta il dito contro i vertici di PD e Movimento 5 Stelle. Sentiamo Pasquale Di Bello. Entro questa settimana, verosimilmente, sapremo la composizione della Giunta Roberti e per sottrazione potremo già individuare il profilo del nuovo presidente del Consiglio regionale. In attesa che nel centro-destra si compongano i giochi, prosegue nel centro-sinistra la resa dei conti per un gioco che si è sfasciato prima ancora di cominciare. A prendere la parola con una durissima requisitoria è il capogruppo uscente e neoeletto del Movimento 5 Stelle in regione Andrea Greco, esponente della prima ora del Movimento, e oggetto di una progressiva marginalizzazione all'interno del partito. L'accusa per Greco è stata quella di essere considerato un grillino della prima ora, una sorta quindi di incendiario che in tempi di pompieri politici è ormai fuori moda. Non ho mai potuto realmente incidere, scrive Greco in una nota, con riferimento alla fase delle trattative e delle interlocuzioni dei tavoli che hanno composto la coalizione progressista che si è candidata con Roberto Gravina alla guida della regione. Una disfatta che, secondo l'esponente Pentastellato, ha delle cause e delle responsabilità ben precise. Mesi, scrive Greco, trascorsi intorno a tavoli infiniti che nulla hanno portato se non a dare maggiore forza al centrodestra, tavoli, rincara la dose Greco, che sono stati demolitivi. Se non si ammette questo, ed è sempre Greco che parla, non siamo sinceri. Poi l'affondo. È vero, le colpe non sono mai di una persona sola, ma certamente ad aver diretto le operazioni è stato il coordinatore regionale Federico insieme al segretario del Partito Democratico Facciolla. La storia ci consegna un dato, prosegue. Il movimento, insieme al PD e ad altre forze civiche, ha totalizzato meno rispetto al 2018 con un notevole aumento degli astenuti. Insomma, un Greco che, nonostante le sue 2298 preferenze, si presenta in consiglio regionale con la fascia da reduce di guerra sulla fronte. Lavorerò nei prossimi anni da uomo libero, dice a conclusione della sua disamina, e i miei unici alleati saranno i molisani. La gratitudine tra i politici, e questa è la chiosa finale, non esiste. Questo l'ho imparato a mie spese, ma noi dovevamo essere un'altra cosa. Restano stazionari, ma sempre gravi, le condizioni del giovane motociclista di 33 anni, di origini marocchine, ma residente a Dogliola, in provincia di Chieti. Rigovernato a Pescara dopo l'incidente di ieri mattina avvenuto sulla statale 16, in territorio di Petacciato. Da subito le condizioni dell'uomo sono apparse critiche. Ha riportato un serio politrauma, lesioni al bacino, alle gambe e alle braccia. In prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale abruzzese, dove è stato trasportato, come vedete, in elicottero dopo l'incidente. Gradimento dei sindaci, è arrivata stamattina, come ogni anno, la gradatoria della popolarità dei primi cittadini, stilata con una propria ricerca dal sole 24 ore. Bene, il sindaco di Campobasso Gravina precipita in ottantesima posizione. In calo ha anche Castrataro, che però è a metà classifica. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Perdono consensi i sindaci delle due città capoluogo di provincia del Molise, Roberto Gravina, primo cittadino di Campobasso, e Piero Castrataro di Isernia. Il dato emerge dall'edizione 2023 di Governance Poll, realizzato da noto sondaggi per conto del sole 24 ore ogni 12 mesi. A ottenere il risultato peggiore tra i due sindaci molisani e Roberto Gravina, che in occasione della sua elezione nel 2019 aveva ottenuto al secondo turno il 69,1% e che ora è precipitata all'ottantesima posizione sugli 87 sindaci, pari al 47%, perdendo ben il 22,1%. Va un po' meglio per il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, eletto nel 2021 con il 58,7% e che attualmente ha perso il 5,2% dei consensi, con un indice di gradimento del 53,2%, ponendosi al 48esimo posto, quindi a metà classifica. Ai cittadini interpellati nel corso del sondaggio è stato chiesto un giudizio complessivo sull'operato del sindaco. In particolare la domanda è stata la seguente. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l'attuale sindaco? A quanto pare, stando ai dati di Governance Pol, molti cittadini di Campobasso si sono espressi negativamente sul lavoro svolto da Gravina, dunque non lo avrebbero votato nuovamente se si fosse tornati alle urne. Si sa, governare non è semplice, spesso è necessario adottare provvedimenti anche impopolari per far requadrare il bilancio di un ente che notoriamente non naviga nel loro a causa dei trasferimenti dei fondi statali sempre più esigui e le scarse risorse proprie. A guidare la classifica il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è eletto nel 2021, ha guadagnato il 7,3%. In coda il primo cittadino di potenza, Mario Guarente, che ha perso l'8,3% dei consensi da parte dei suoi concittadini. Per quanto riguarda infine la graduatoria dei governatori, tra i quali non c'è per ovvie ragioni Donato Toma, nelle prime posizioni svettano Bonaccini per l'Emilia Romagna, Zaia del Veneto e Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. Torniamo adesso a parlare del sequestro della pineta di Campomarino e dell'inchiesta della procura di Larino, perché interviene il sindaco di Campomarino, Pierdonato Silvestri. Non ritengo sia opportuno parlare di scempio ambientale, afferma il primo cittadino, in quanto, come già evidenziato, le aree in oggetto erano state pesantemente danneggiate dagli incendi. Gli interventi si sono resi necessari con lo scopo di evitare il crollo degli alberi e di garantire l'incolumità dei beni e delle persone, in particolar modo nel periodo caratterizzato da un forte afflusso di turisti. Siamo fermamente convinti, ha concluso il sindaco, che questo intervento era necessario e legittimo. A tal proposito esprimo la mia totale fiducia nella magistratura e nello sviluppo delle indagini. Adesso andiamo alla Stellantis di Termoli. Stamattina un presidio dei lavoratori e dei sindacati e quattro ore di sciopero per chiedere l'apertura di un tavolo di confronto con il governo e maggiori garanzie per il futuro. Vediamo. Una protesta nazionale del comparto metalmeccanico, un presidio unitario di Fim, Fiome e Wilm. Il 7 luglio al nord, oggi invece quattro ore di sciopero nelle fabbriche del centro e del sud. Davanti ai cancelli della Stellantis a Termoli, la richiesta marcata, netta al governo. Un grido che chiede l'apertura di un tavolo di confronto per avere garanzie sul rilancio industriale, sull'occupazione e gli investimenti sulla transizione sostenibile. I sindacati chiedono la risoluzione delle crisi aperte. I metalmeccanici in Italia stanno vivendo una condizione economica e sociale molto delicata. A Termoli poi si aggiungono le incertezze legate alla costruzione della gigafactory. Sui livelli occupazionali c'è bisogno di rassicurazioni. Ci operiamo affinché si apra al più presto quello che è il confronto con il governo. A noi ci serve un tavolo di confronto con il ministro Urso, con ECC e con Stellantis per capire tempi e modalità del passaggio di tutti i lavoratori da una società all'altra. Purtroppo la politica ha dei tempi diversi da quello che poi sono le persone che lavorano. Questa è la realtà. Abbiamo avuto un cambio di governo e adesso addirittura anche un cambio alla regione molise. Quindi questi continui cambi di poltrone purtroppo slittano i tempi. Al momento in FCA Termoli abbiamo circa 2.200 addetti. La preoccupazione è rispetto all'investimento sulla gigafactory. E lo sciopero di oggi è l'inizio di un segnale al governo per dire basta, sediamoci al tavolo per controllare e monitorare tutte le crisi industriali. FCA di Termoli è il simbolo del Molise, visto che c'è un grosso investimento, dobbiamo capire insieme alle istituzioni, ministero, organizzazioni sindacali e regione quale sarà il futuro dei lavoratori FCA, come passeranno eventualmente, perché attualmente non c'è nessun accordo. E l'altro aspetto è capire sul piano industriale quale energia, dove e come verranno prese le risorse energetiche per far funzionare l'impianto. Non è uno sciopero contro qualcuno, ma è uno sciopero per. La filiera metà meccanica in questo momento, nell'intero territorio italiano, ma soprattutto nella nostra regione Molise, è in forte difficoltà. La transizione all'elettrico sta mettendo in seria crisi quelle che sono le filiere dell'automotivo, ma soprattutto l'indotto stesso. La scelta di farlo qui sul nucleo industriale di Termoli, dinanzi ai cancelli di FCA, ha un chiaro messaggio. Qui si è sempre concentrata la massima forza lavorativa per quanto riguarda il comparto metalmeccanico stesso. Noi alla regione, ma soprattutto all'Italia, alla politica, chiediamo un chiaro indirizzo per politiche industriali di settore che favoriscano gli insediamenti industriali, che favoriscono l'occupazione e favoriscono tutte quelle possibilità che i metalmeccanici in questo momento dovrebbero avere a garanzia. Il parroco anticamorra, Don Maurizio Patriciello, in visita stamattina al carcere di Isernia. Il Vangelo dice che deve arrivare a tutti, anche alle persone che hanno sbagliato. Don Patriciello parla anche di sanità. Purtroppo esiste ancora un mondo di serie A e uno di serie B. Sentiamo Enrico De Simone. È tornato nuovamente in Molise il parroco di Caevano, sotto scorta per via delle sue battaglie contro la Camorra. Don Maurizio Patriciello ha fatto visita al carcere di Isernia per incontrare i detenuti. Parole di sostegno e conforto che guardano con speranza al dopopena. Il messaggio del Vangelo deve arrivare a tutti. Dobbiamo cominciare dai bambini, senza dimenticare nessuno, neanche i fratelli e le sorelle che hanno sbagliato, che stanno pagando il loro debito con la società civile. Ho scritto in uno dei miei ultimi articoli che dobbiamo evitare i ghetti. I ghetti possono essere di tipo geografico, ideologico, economico. E bisogna evitare. La cosa importante è sempre creare comunione. Quello di Isernia è un carcere a misura d'uomo, ha detto il parroco, ma la situazione in altre parti d'Italia è più complessa. In riferimento ai penitenziari sovraffollati, non bisogna, ha aggiunto Don Patriciello, far passare in secondo piano i diritti. I fratelli detenuti sono fratelli detenuti e hanno diritto a tutti i loro diritti. Quindi non è per il fatto che sono detenuti noi possiamo maltrattarli, bistrattarli o umiliarli, no. L'attenzione è ai giovani. I carceri minorili non dovrebbero esistere, ha spiegato il parroco. I carceri minorili, solamente sentirlo dire, per me è un pugno nell'occhio, veramente. Sono luoghi che non dovrebbero proprio esistere, diciamoci la verità, proprio non dovrebbero esistere. Dobbiamo dire che purtroppo la prima educazione avviene in famiglia, avviene in famiglia. Noi possiamo arrivare, per quanto possiamo, possiamo essere di aiuto, ma quando in famiglia manca quello che dovrebbe essere certo per i ragazzi, si avverte veramente una mancanza. Dobbiamo aprire le porte, le finestre, dobbiamo abbattere gli steccati, dai santuari, dobbiamo scendere tutti quanti, i sacerdoti dalle chiese, i magistrati dai loro uffici. E sulla sanità chiara la posizione di Don Patricello occorre potenziare il settore pubblico. È triste dirlo, è triste soprattutto per me, però soprattutto per quanto riguarda la sanità, viviamo ancora in un mondo di serie A e in un mondo di serie B, se non di serie C. A invitare a Isernia il parroco delle lotte nella Terra dei Fuochi, l'attivista Palmina Giannini. I detenuti sono i nostri fratelli, io credo molto in loro. Ieri piangevo e dicevo che cosa faranno questi giovani, chiusi qua dentro, tutta una giornata del mese di agosto, il mese di luglio, queste giornate interminabili. Ho portato una ventata di respiro. È arrivato il grande caldo anche sul Molise, secondo l'ultimo bollettino delle ondate di calore curato dal Ministero della Salute. Per domani e dopodomani Campobasso sarà tra le città con bollino arancione. Le temperature saliranno in settimana fino a 36 gradi. Il mare in Italia è pulito quasi ovunque. Lo rivela il risultato di un'analisi condotta dal Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale. Il Molise è sorprendentemente in quarta posizione. Sentiamo Giovanni Di Tota. Acqua cristallina e mare pulito. Il 95,5% delle acque di balneazione del bel paese, circa 5.000 chilometri di litorale, ha una qualità definita eccellente. Il restante 2,7% è di qualità buona, 144 chilometri, mentre è sufficiente o scarso soltanto l'1,6%. È il risultato delle analisi microbiologiche condotte in un periodo che ha abbracciato 4 anni, dal 2019 al 2022, dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che solo lo scorso anno ha effettuato più di 30.000 campionamenti. A dominare la classifica per la qualità delle acque, la Puglia eccellenti per il 99,8%. Seguono la Sardegna, la Toscana e, un po' a sorpresa, il Molise. Nella nostra regione l'acqua del mare è stata classificata eccellente per il 98,5%. I parametri microbiologici su cui si basa il monitoraggio sono le concentrazioni di Eschirichiacoli ed Enterococchi, batteri ritenuti appunto indicatori di contaminazione fecale. Le percentuali riportate sono riferite al totale delle acque monitorate, escludendo dunque quelle non sottoposte al monitoraggio, ad esempio i tratti di mare che ospitano porti, servitù militari, aree protette. Il dato fa il paio con quello del ritorno della bandiera blu a termoli, insieme alla confermata Campomarino, e del boom di presenze segnalate in regione che con più del 40% proietta il Molise in cima alla classifica per incremento turistico rispetto alle altre regioni italiane. Un preludio all'estate appena partita e che con un mese di giugno rovinato dal maltempo gli operatori sperano di prolungare fino all'autunno. E dal mare pulito al fiume è probabilmente sporco, perché saranno i risultati delle analisi dell'Istituto Zooprofilattico a fornire risposte sulle cause della morte di numerose trote nel fiume Carpino, tra Isernia e Pesche. Domani verranno effettuate le analisi sui campioni che sono stati prelevati sabato scorso. Ce ne parla Valeria Migliore. Le cause che hanno determinato la morte di decine di trote nel fiume Carpino, tra Isernia e Pesche, potrebbero essere chiarite dall'Istituto Zooprofilattico Caporale di Contrada Breccelle, che domani avvierà gli accertamenti. Sei esemplari sono stati prelevati dai carabinieri forestali di Forlì del Sannio per consentire le analisi e fare luce sull'accaduto. Bisognerà infatti stabilire se la moria dei pesci sia stata provocata da agenti inquinanti, da asfissia o da avvelenamento. L'episodio, segnalato sabato scorso da alcuni pescatori che si trovavano nella zona, sembrerebbe però circoscritto al tratto del Carpino, compreso tra Isernia e Pesche. Il sindaco di Carpinone, Pasquale Colitti, ha infatti effettuato personalmente un sopralluogo per verificare se anche lì vi fossero trote morte, ma nel fiume non ha trovato alcuna traccia del fenomeno. Intanto nelle prossime ore è probabile anche un intervento dell'Agenzia di Protezione Ambientale ARPA, contattata dalla forestale per un campionamento straordinario delle acque, aggiuntivo rispetto a quello svolto periodicamente, e finalizzato a verificare se ci sia stato qualche eventuale sversamento nocivo nel fiume. Si svolgerà dal 25 luglio al 4 agosto la 41esima marcia francescana Oggi Sarai Con Me in Paradiso, un cammino del corpo e dell'anima, un viaggio nella bellezza e nella condivisione che coinvolge migliaia di giovani provenienti da tutta Italia verso la Porziuncola per la festa del perdono. Il percorso, pensato dai frati minori di Puglia e Molise, partirà da Conversano il 25 luglio, si snoderà in diversi centri della Puglia per arrivare il 2 agosto, giorno del perdono, ad Assisi. Ce ne parla Giuseppe Carriera. San Francesco d'Assisi aveva un desiderio, portare tutti con sé in Paradiso, e un Papa illuminato, Onorio III, dopo averlo ascoltato con attenzione, chiese «Francesco, per quanti anni vuoi questa indulgenza?» Il Santo rispose «Padre Santo, non domando anni, ma anime». Era il 2 agosto 1216, quando Francesco annunciava «Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso, con una indulgenza plenaria che ancora oggi rappresenta il traguardo di un cammino di fede che spesso diventa anche un cammino vocazionale. Ne abbiamo parlato con Fra Antonio Lembo, giovane frate originario di Gambatesa, dei frati francescani di Puglia e Molise, che da alcuni anni coinvolge e accompagna tanti fedeli, soprattutto giovani, in una marcia francescana che, in parte a piedi, nella seconda parte in pullman, porta fino a Assisi. Il cammino fisico è anche il cammino del cuore. Ecco che, come centro vocazionale dei frati minori di Puglia e Molise, organizziamo diversi percorsi in tutto l'anno, ma sta per arrivare un percorso spirituale bellissimo che quest'anno vivremo sulla Murgia dei Trulli, la marcia francescana. Siamo alla 41esima edizione. L'esperienza si svolgerà dal 24 luglio al 4 agosto. Partiremo da Conversano. Raggiungeremo Putignano, Turi, Castellanagrotte, Alberobello, Fasano, Monopoli. E poi, in pullman, raggiungeremo la Porziuncola, Assisi. Stiamo chiudendo le iscrizioni. L'esperienza è aperta a tutti i giovani, dai 18 ai 35 anni. Per chi vuole contattarci, può chiamarci al 366 27 44 846. La marcia quest'anno ha un inno inedito, composto appositamente da un autore molisano, Emilio Corbo di Campobasso. Sarà anche lui, così come altri genitori, protagonista della Marcia delle Famiglie, una versione del cammino dedicata ai nuclei familiari che così rafforzano la loro fede. La Marcia delle Famiglie nasce da quelli che all'epoca erano i giovani, che hanno vissuto la Marcia dei Giovani e quindi hanno desiderato vivere questa esperienza in una dimensione appunto familiare. Il percorso è costruito a misura di famiglia, quindi anche prevede la presenza eventualmente di bambini, anche piccoli. Il principio ispiratore è lo stesso, il prepararsi a questa festa del perdono. Punterei su tre cose, la condivisione, la precarietà, quindi l'adattamento, il superare le difficoltà e quindi la riscoperta poi infine di questo amore del padre. E adesso parliamo di musica perché venerdì al Summerland le cupolette di Vinchiaturo arrivano gli statuto con un atteso concerto del tour che celebra i 40 anni di carriera. Abbiamo intervistato il leader di questa storica band torinese per presentare questo appuntamento. Al Molise sono da sempre molto legati ed è per questo che gli statuto in regione vengono sempre a suonare molto volentieri, ma stavolta sarà un'occasione speciale. La storica band torinese festeggia infatti 40 anni di carriera. Per venerdì prossimo, 14 luglio, al Summerland delle cupolette di Vinchiaturo, il leader del gruppo Oscar Gianmarinaro promette una grande festa. Sì, è sempre un piacere. Noi, fin dai primi nostri concerti fuori regione, Campobasso e Molise in genere, è sempre stata una zona in cui ci siamo sempre trovati a casa. Quello nostro primo concerto, addirittura, ha una festa di unità a Campobasso nel 1989. E negli anni poi abbiamo instaurato vere e proprie amicizie. E quindi è sempre veramente un grande piacere tornare a lavoro. Ci vediamo bene lì a Vinchiaturo, sarà veramente un momento bellissimo per incontrare i nostri amici molisani. La scaletta sarà quella dei 40 anni, quella che ha conto il disco. Siamo sicuri che ci sarà veramente modo di divertirci. Anche il concerto in Molise sarà dedicato a Rudy Ruzza, il bassista degli statuto scomparso da qualche mese. L'ultimo disco della band, oltre a quattro inediti, contiene anche la registrazione dell'ultimo concerto insieme. Eh sì, lui in quel momento già ha qualche problema di salute, ma era riuscito a prepararsi lo stesso e suona tutta la parte finale del concerto contenuto nel nostro disco. Quindi è una testimonianza molto molto importante a cui noi teniamo tantissimo. Devo dire che sembrava che le cure che stava facendo funzionassero bene, quindi noi avevamo un po' più preparati a poter fare il tour insieme a lui. Invece è improvvisamente mancato poi nel marzo di quest'anno e quindi purtroppo è andata così. Bella storia, il titolo del pezzo di punta del nuovo disco della band, un titolo che sembra essere anche la sintesi di 40 anni di storia degli statuto. Abbiamo fatto tanti dischi, tantissimi concerti, siamo arrivati ovunque, sempre però coerenti con quello che siamo noi. Cioè noi esistiamo per far conoscere e per far scoprire la cultura mod attraverso la nostra musica e con il nostro stile, con il nostro biglamento, con il nostro modo di approcciarci sul palco. Siamo arrivati da platee molto cosiddette alternative così come in platee invece nazional popolare. E questo quindi è la dimostrazione che l'essere in modo non ha mai stato un modo di autoghetizzarsi ma invece è un modo di proporci e c'è lato forza e determinazione per arrivare ai risultati che siamo riusciti a ottenere. Bene, questo era l'ultimo servizio. Vi lascio alle previsioni del tempo poi come sempre le notizie sportive. Grazie per averci seguiti. Buon poveriggio e più tardi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.